Librerie murate, opere vincitrici di concorsi pubblici sepolte nella polvere a redi acquistati con i soldi dei contribuenti recuperati dall'immondizia. La scoperta è stata fatta dal sindaco di Francavilla Antonio Luciani al Mumi quando ha deciso di realizzare un sogno, aprire una biblioteca nel museo. Sogno che si è concretizzato la scorsa settimana a costo zero. È stato un altro recupero a costo zero, non solo, ma abbiamo recuperato valore che era praticamente disperso perché abbiamo trovato sotto nelle, definirei, cantine segrete, dei mobili stupendi in ciliegio che potete ammirare. Abbiamo rivalorizzato tutti questi locali, abbiamo reso disponibili i locali dove attualmente c'è la sala lettura. Tutto questo con la forza solo di alcuni LSU, di alcuni operai che si sono veramente prestati per la loro città e per questo li ringrazio in maniera calorosa. E quindi abbiamo realizzato questo spazio che io veramente vi devo dire mi apre il cuore perché da quando sono diventato sindaco immaginavo in questi locali la biblioteca comunale. Penso che non ci sia posto più bello di questo a Francavilla, il Mumi deve essere valorizzato. Abbiamo ieri inaugurato anche l'apertura del bar che sarà in un locale di un certo livello e quindi immaginarsi di effettuare una buona lettura con un buon drink nel chiostrino del Museo Michetti, insomma, penso che in Abruzzo non ci siano altri posti così. E state pensando anche di inaugurare un angolino dove acquistare libri sull'abruzzesità? Eh sì, abbiamo avuto anche questa idea perché ci sono tanti testi sull'abruzzo ma in verità qualcuno che dovesse ricercarli deve così dividersi tra varie case editrici magari senza trovare il prodotto e quindi stiamo provando a destinare una stanza a tutte le pubblicazioni che vengono fatte sull'abruzzo in modo da diventare un punto centrale per l'intera regione dove poter acquistare tutti i testi che riguardano la nostra stupenda regione. Grazie Grazie Grazie